ragazzi buongiorno e benvenuti per un nuovo appuntamento sul canale oggi vorrei parlarvi di un tema che mi è stato molte volte richiesto nei commenti cioè come si svolge praticamente la giornata in una struttura psichiatrica il primo video che pubblicai su questo canale trattava un tema simile ma non era troppo elaborato bene perciò adesso lo rifarò più nel dettaglio con maggiore precisione in poche parole i pazienti hanno una sveglia un orario in cui svegliarsi fare colazione e prendere la terapia la sveglia è alle sei e mezza di mattina l'operatore si sveglia anche lui intorno alle sei e mezza di mattina quindi la prima cosa che si fa è andare in cucina preparare il caffè il latte le fette biscottate fare colazione dopodiché l'operatore provvede a somministrare la terapia agli ospiti e quindi adesso si sono fatti intorno alle sette di mattina cosa si fa dopo l'operatore provvede a fare le docce ai pazienti meno autonomi a fare le docce a prendersi cura dell'igiene personale di chi non è in grado di farlo da solo cioè gli cambia il pannolone fa le barbe taglia le unghie pulisce la stanza invece gli altri ospiti cosa fanno si mettono a fumare fumano principalmente non hanno granché da fare quindi adesso si sono fatte circa le sette e mezza più o meno alle ore otto alcuni ospiti quelli più autonomi escono da soli vanno accompagnati dall'operatore arrivano in paese l'operatore li lascia lì con la macchina e se ne va e quindi gli ospiti hanno alcune ore di autonomia per andare al bar a prendere il caffè per fare delle piccole commissioni personali per farsi una passeggiata per incontrare delle persone che conoscono e poi dopo due tre ore tornano in struttura questo permesso non avviene tutti i giorni ma solamente quattro volte a settimana negli altri giorni invece si esce accompagnati da un'associazione di volontariato quindi per le ore 11 11 e mezza gli ospiti autonomi rientrano in struttura e si preparano per il pranzo il pranzo viene servito intorno alle ore 12 e un quarto 12 e mezza cosa succede dopo succede che c'è una un foglio con dei turni delle pulizie in cui è stabilito giorno per giorno chi deve occuparsi della pulizia dei piatti della cucina della sala mensa chi deve spazzare lavare cambiare i cestini comunque pulire la cucina dopo che è stata utilizzata dall'operatore per preparare il pranzo questa attività si conclude intorno alle ore 13 13 e un quarto dopodiché gli ospiti hanno alcune ore per rilassarsi per fare un breve riposino se vogliono oppure per dedicarsi alle loro attività personali come ascoltare la musica fare quello che vogliono però la gran parte degli ospiti di solito dopo mangiato se ne va a dormire alle ore 15 c'è il caffè la pausa caffè pomeridiana l'ultimo caffè della giornata che viene preparato dall'operatore e dato a tutti gli ospiti di solito nel pomeriggio con l'animatrice svolgiamo delle attività ludico ricreative occupazionali che possono essere disegnare scrivere leggere il giornale leggere un libro fare dei lavoretti con l'argilla oppure partecipiamo a dei laboratori di musicoterapia laboratori di storia sul nostro paese in cui ci troviamo siamo tenuti occupati con queste attività qualora invece quel pomeriggio le attività con l'animatrice non si tengano ogni ospite libero di potersi dedicare a ciò che vuole può fare queste attività però di solito gli ospiti sono un po pigri e non fanno niente si mettono a dormire oppure fumano sigarette quindi sono pochi quelli che hanno la volontà di dedicarsi agli hobby alle passioni il pomeriggio non si esce mai le uscite sono tutte quante concentrate nella mattina l'unica uscita che si può fare il pomeriggio è passeggiare nei boschi nella natura che circondano la struttura in pratica siamo in una zona rurale agreste verso le ore 18 veniamo convocati per cenare ci viene consegnato il piatto e poi una volta finito di mangiare di so si riprende ancora una volta con terapia e pulizie della cucina alle ore 19 finiamo queste mansioni e quindi le attività quotidiane sono finite arriva la sera cosa si fa i pazienti la gran parte di loro alle ore 20 già sono tutti quanti coricati nel letto quindi alle ore 20 già c'è un silenzio tombale nella struttura la mia routine quotidiana personale invece è leggermente diversa perché io ho anche l'impegno del lavoro che faccio che faccio circa 25 ore settimanali di attività lavorativa inoltre sono molto più attivo rispetto alla maggioranza degli altri ospiti dato che mi mi dedico alla lettura di libri tutti i giorni mi dedico al canale youtube mi dedico ad andare a passeggiare tutti i giorni diciamo poi la sera non me ne vado a dormire alle 8 ma guardo un film guardo dei video su youtube leggo ancora parlo a telefono con degli amici quindi la mia routine personale cambia è un po diversa rispetto a quella della maggioranza degli altri ospiti che hanno una vita più monotona e pigra quindi la loro vita è basata solamente su questa routine che ho di cui ho parlato nel video vorrei sapere da voi cosa ne pensate di questa routine di cui ho parlato è una vita un po monotona oppure ritenete che sia una vita soddisfacente quindi vi ho raccontato in breve come si svolge la giornata tipo di di noi pazienti ricoverati in questa struttura ci sono delle eccezioni a questa routine per esempio quando ci sono compleanni facciamo anche le feste di compleanno quando organizzano delle gite ci portano a fare delle uscite particolari oppure a mangiare la pizza la sera andare in paesi vicini per prendere il caffè quindi ci sono delle modifiche a questa routine però di solito questa qua è la routine che svolgiamo giorno dopo giorno facciamo anche altre attività come giardinaggio abbiamo creato un piccolo orticello nei vasi e ogni giorno ci occupiamo di innaffiare queste piante inoltre ci prendiamo cura di alcuni gattini sono da poco nati due nuovi cuccioli che anzi tra poco vi mostrerò nel video e quindi diamo da mangiare a questi gatti li puliamo la lettiera e quindi abbiamo tante attività da fare alla fine la vita che svolgiamo qua dentro non si discosta molto dalla vita che svolge una persona normale a casa sua l'unica differenza è che la persona che sta fuori ha più impegni lavorativi e familiari magari ai figli da accudire però le attività quotidiane domestiche più o meno sono sempre quelle per tutti ok ora vi mostro i nostri amici gattini appena nati hanno circa dieci giorni di vita bello sei vivo questo qua invece è fatto già grande tiene quattro mesi di vita ma invece è un pupazzo è finto ok ragazzi questo qua era un breve video come avete visto io non presto molta cura nell'editing dei video perché non ho neanche molte competenze in materia però spero che i miei video siano chiari e comprensibili e siano di vostro gradimento vi auguro un felice sabato divertitevi stasera